Nella Val Cantuna siamo qui con la signora Angela, oggi è l'8 di settembre, però non si ricorda bene cos'è successo tanti anni fa, la fuga di Badoglio, no? No, non mi ricordo, ho poca memoria. Però ha 98 anni, insomma la memoria. Non si può pretendere che ha 98 anni, ormai sono vecchia. Allora, l'accordo che abbiamo fatto è fra due anni per festeggiare i 100. Eh, non arrivi no? Sì, sì, si passeranno anche via. Fammi una bella sonata. Sì, facciamo una festa, 100 candele. No, candele, niente candele. La banda? La banda. Bene allora, la bisogna organizzare. Allora, un saluto sempre alla sorridente nonna Angela e alla prossima intervista per la Val Cantuna. Va bene? Va bene. Arrivederci, saluti. Ciao. Ciao.